Vive sulla Piana di Gela la colonia di Cicogne, più grande d'Italia. Sono ben 100, infatti, gli invori di giovani esemplari di Cicogne bianche avvistati sulla Piana di Gela, documentati dai volontari della sezione Lipu di Niscemi. La carica delle 100, così, è stata ribattezzata a questa popolazione di volatili, con affetto dai volontari. La popolazione sembra stabile e si aggira intorno alle 37-40 coppie. Le nidificazioni sono avvenute sui tralicci di media tensione della rete elettrica, seguendo due linee in corrispondenza dei fiumi Gela e Maroglio. Una vera rarità, un patrimonio naturale che si aggiunge agli innumerevoli tesori paesaggistici custoditi nella Piana di Gela. Da circa 15 anni le Cicogne hanno trovato le loro condizioni ideali per nidificare e, riproducendosi, popolare quest'area intorno alla città del Golfo. La Cicogna, dichiara Manuel Zaffarana, delegato della sezione Lipu di Niscemi, si nutre principalmente di ortotteri, cioè piccoli insetti, anfibi, rettili e micromammiferi e trova in queste zone l'ambiente perfetto per nidificare. E dalle originarie coppie, in dieci anni si è assistita ad un elevato aumento della popolazione che ha portato alla nascita della colonia più grande d'Italia, sviluppatasi in maniera completamente spontanea, senza l'intervento e l'aiuto dell'uomo, conclude Zaffarana. Diversità di habitat, quindi, ma anche di colture estensive che danno vita ai cosiddetti mosaici agrari. Nel tempo per il proliferarsi della specie si sono rivelati importanti anche i carciofeti della Piana di Gela, gli incolti e le zone umide. Per studiare e approfondire le dinamiche familiari dei volatili, sul dorso di sette esemplari sono stati installati per la prima volta persino dei GPS. Dall'osservazione dei diversi nuclei familiari è emerso un fatto curioso. Due coppie tardive hanno dato origine a due involi a metà agosto. Tutti i loro compagni, invece, avevano fatto registrare l'involo a metà giugno. Nuove opportunità, dunque, ancora una volta per il territorio di Gela, che si conferma una grande risorsa che attrae ricercatori studiosi da tutto il mondo, affascinati da un luogo di rara bellezza e custode di innumerevoli tesori.